Bastoncino rotante. Questo semplice giocattolo serve per spiegare la forza rotatoria. Ti servirà un manico di scopa, dello spago e un pezzo di gomma. Legai i bastoncini lunghi e corti insieme per formare un angolo acuto. Taglia l'eccesso di spago. Infila il bastoncino lungo nella gomma. Fai un buco nella gomma. E infilaci il bastoncino. Il giocattolo è pronto per ruotare. Posalo sul tuo indice e fallo ruotare. Il giocattolo è pronto per ruotare.